mi sto chiedendo se realmente nonostante tutto quello che dicono che questo è normale ma è normale tutto questo guardate bene semplicemente osservate tutte quelle scie chimiche che si vedono avanti e indietro così lontane fino dove si riesce a vedere sono dappertutto ovunque è normale questo io non lo credo ho semplicemente ripreso questo dalla mia auto prima di partire da casa semplicemente per chiedere è naturale tutto questo non penso proprio sia così perché se ne vedono così tante alcuni aerei le rilasciano altri no guardate ce n'è uno piccolino vediamo lassù dov'è eccolo questo non rilascia scie tutti gli altri scie quello che mi chiedo è che questi piloti volano e non dicono ehi guardate cosa abbiamo fatto cosa abbiamo piazzato nel cielo mi chiedo perché non penso che siano sulla rotta dell'aeroporto di itrow che è in quella direzione c'è un altro aereo che le sta rilasciando lassù c'è un altro aereo dopo di quello quello che voglio dire è che questi sono i resti sono i resti di altri aerei non potete dire che questi aerei non stanno facendo questo aereo 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 aereo